26 settembre 2006. Silvia Baraldini torna libera per effetto della legge sull'indulto. La vicenda della donna ha inizio nel 1982. Arrestata negli Stati Uniti, viene condannata nel 1983 da una corte statunitense a una pena cumulativa di 43 anni di carcere per concorso in evasione, associazione sovversiva, due tentate rapine e ingiurie al Tribunale. Nell'agosto del 1999, a seguito delle pressioni fatte dal governo italiano nei confronti del governo degli Stati Uniti, Silvia Baraldini è estradata in Italia.